residenti ed amministrazione comunale faccia a faccia per discutere ed avere chiarimenti sulla realizzazione del progetto di creare sotto piazza Lario una serie di stalli e di box interrati la riunione richiesta dai cittadini del comitato salviamo piazza Lario accolta dal primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli si è tenuta questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città con l'assessore all'urbanistica Mimmo De Maio e il capo staff Alberto Di Lorenzo la riunione è stata l'occasione per spiegare i motivi che portano gli abitanti della zona a dubitare fortemente dell'utilità del progetto che porterà alla realizzazione di parcheggi e degli effetti sotto il profilo idrogeologico dato che sotto la piazza passano due torrenti l'assessore De Maio e il capo staff Alberto Di Lorenzo hanno definito una partecipazione attiva con i cittadini aprendo un tavolo per partecipare all'iter dei lavori Voglio esprimere apprezzamento per la modalità con la quale i cittadini che vivono nella zona di piazza Lario questa mattina hanno inteso avviare un confronto con l'amministrazione sul progetto di realizzazione dei parcheggi appunto di piazza Lario Prima di tutto per capire quali potessero essere le problematiche legate essenzialmente alla sicurezza ed avere garanzia che tutto possa essere svolto in modo da garantire e non amplificare eventualmente delle problematiche che già alcuni stabili riscontrono in quella zona Quindi è interesse anche da parte dell'amministrazione, da parte nostra, che questo possa essere verificato nel miglior modo possibile nel modo più, diciamo, di dettaglio Così come anche la valutazione del progetto nel suo complesso rispetto anche al sistema di arbitratura preesistente che, diciamo, nell'ipotesi di progetto debbano essere comunque risistemate per garantire a quella piazza la stessa qualità, la stessa modalità con la quale, diciamo, la conosciamo oggi noi tutti Secondo i residenti sarebbero esigui i parcheggi che si andrebbero a realizzare e i timori principali sono legati, insomma, all'assetto idrogeologico Appunto, rispetto all'assetto idrogeologico, lo dicevo prima, dovranno essere fatti tutti gli approfondimenti legati anche al sistema di monitoraggio degli edifici a contorno ma anche chiaramente quali sono le tecniche per realizzare poi l'intervento Quindi sarà compito, anzi volontà nostra, di avere tutte le specifiche competenze per poter arrivare ad una, diciamo, modalità di intervento che possa dare ampie garanzie da questo punto di vista Per quanto riguarda il numero di parcheggi voglio ricordare che nel caso specifico la proposta avanzata prevede un parcheggio a rotazione per una parte è più una serie di box perché comunque in quella zona, diciamo, le esigenze di avere box auto e sentite e quindi potrebbe essere questa una soluzione Abbiamo avviato un tavolo che potrà dare l'opportunità agli stessi rappresentanti dei cittadini di verificare un po' il lavoro come evolve e credo che poi alla fine riusciremo a trovare una sintesi rispetto alla proposta del progetto Si discute dei parcheggi di Piazza Lario ma torna in discussione anche Piazza Mazzini c'è il via libera anche per l'altra parte della città di Salerno, Piazza della Concordia Ieri c'è stato un pronunciamento del Consiglio di Stato che rispetto ad un ricorso avanzato da alcuni da un gruppo di cittadini nella zona di Piazza della Concordia ha confermato che dal punto di vista dell'iter tecnico-amministrativo rispetto alla paventata problematica relativa agli standard rispetto alle modalità con le quali l'amministrazione aveva avviato questa procedura dal punto di vista tecnico-amministrativo le operazioni, le attività posti in essere dall'amministrazione sono assolutamente corrette il Consiglio di Stato lo ribadisce con chiarezza e quindi adesso l'amministrazione può ragionare più serenamente su quello che può essere il destino di quell'area e cosa che faremo nell'ambito della rivisitazione del piano come molti sapranno, siamo in una fase di lavoro siamo a dieci anni dall'introduzione del piano ormai quindi nei prossimi mesi lavoreremo su questo e credo che una considerazione di merito sarà fatta anche sull'area di Piazza Mazzini Quindi per Piazza Mazzini si parla nuovamente di edificabilità? Si parla di edificabilità però bisogna sapere che tipo di progetto che cosa effettivamente prevedere e su questo ragioneremo nei prossimi giorni Grazie a tutti